Domenica 17 settembre, buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri, bentrovati qui sul canale, ovviamente buona domenica a tutti. Ripartiamo da qui, è il titolo del contenuto di questa mattina, per la verità sono un paio gli argomenti che volevo trattare quest'oggi. Comincio però da quello a cui voglio dare maggior risalto, ovvero ripartiamo da qui. Di cosa parliamo? Lo scopriamo immediatamente, prima però mi raccomando come sempre continuate ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non lo siete e se guardate i video, perché tanti guardano i contenuti ma non sono ancora iscritti al canale. Azionate la campanella notifica e mettete un bel like al contenuto in fondo alla puntata, sperando che possa essere stata di vostra condivisione, perché questo è un tema che ho trattato diverse volte qui sul canale, a cui sono particolarmente attento e legato, perché ritengo che nei successi di un club ci siano tante componenti, che non siano solo le performance dei singoli. E mi piace pensare che in una vittoria di una squadra ci sia un gruppo unito, ci siano degli obiettivi comuni, ci sia un ambiente che tiri tutto unito verso l'obiettivo. E ieri con il ritorno della curva sud, i canti, i cori all'interno dello stadion, ancora lontano da uno stadion debordante di passione come quello del primo ciclo di Allegri o ancora prima con Conte, ma sicuramente uno stadion capace di trascinare i giocatori in campo. Io credo che ci sia un collegamento, parlo ovviamente per opinione personale e non per approfondimenti certificati all'interno di elementi della curva, però credo che ci possa essere una sorta di collegamento tra le espressioni di alcuni giocatori verso la curva e la curva stessa che ha deciso nella giornata di ieri di tornare a farsi sentire e a sostenere il pubblico. Ricorderete, e ne parlai, di alcuni giocatori che cominciavano a lanciare segnali postando sui loro profili social, sulle loro storie di Instagram. La bellezza e l'importanza, il calore che trasmette il pubblico e tutto questo ovviamente lo si poteva evincere esclusivamente in trasferta. Quando invece si giocava in casa nel teatro, non più nello stadion, nell'Allianz Theatrum, definirei così, si sentivano di più i tifosi ospiti. Ieri finalmente si è tornato a sentire uno stadium pro Juve e questo io credo sia un punto fondamentale e imprescindibile, sottolineo imprescindibile, per i prossimi futuri successi. Perché è vero che le squadre sono composte di giocatori, è vero che le squadre sono composte da campioni, ma è altresì vero che ci sono squadre che magari non hanno una così eccelsa qualità tecnica, che hanno invece eccellenti qualità morali, che vengono alimentate e enfatizzate proprio dalla spinta che si può avere dal pubblico festoso, cantante, che ti sostiene e ti spinge a dare quel qualcosa di più. E credo che, come nel primo ciclo di Allegri e ancora prima con Conte, l'ho già detto, 9 barra 10 punti, quel pubblico li portava, li portava in dote. Voglio anche ringraziare pubblicamente, non perché io sia un promotore di un cartello relativo alla questione pubblico, però mi fa molto piacere che ci siano elementi positivi, giornalisti professionisti che stimo tremendamente, come ad esempio Romeo Agresti che abbiano trattato il tema curva sud, tifo allo stadio. Perché proprio su questo tema giornalisti, poi vorrò tornare, vedrò adesso, ci rifletto un attimo, su questo secondo contenuto perché anche lì abbiamo di che di squisire relativamente alla questione che ha visto protagonista alla Juventus ieri nel primo gol, al successivo silenzio stampa derivato dalla Lazio, che invece di ammettere candidamente di aver perso contro un avversario che si è dimostrato superiore, ha scelto la via della vergogna, perché quel silenzio stampa, a mio modo di vedere, è una vergogna. Detto questo, problemi loro, non mi interessa. Trattiamo il tema del tifo. Ecco, ripartiamo da qui perché io voglio augurarmi, voglio sperare veramente in maniera forte che non sia stato un attantum ieri contro la Lazio, ma che il prosieguo possa essere un prosieguo con i tifosi che hanno saputo veramente incidere positivamente sul match. Io tra l'altro non sono di quelli che generalizzano relativamente al concetto di tifo organizzato pensando che il tifo organizzato sia solo delinquenza, sia solo situazioni pro tifo di coloro i quali comandano e quindi possono essere visti come la parte negativa del vero tifo allo stadio. Io sono dell'idea che un tifo organizzato possa esserlo per dare veramente sfoggio e qualità ad un impianto, in questo caso l'Allian Stadium, e possono dare soprattutto un grande sostegno alla squadra. Questo perché quando si fanno cori, quando si riesce a trasmettere una certa positività, beh, ne traggono beneficio anche i giocatori in campo. E poi credo anche che non necessariamente se si organizza un tifo per trascinare i cori all'interno di uno stadio si deve inevitabilmente per forza cadere in quella parte, diciamo, delinquenziale di una curva o di uno stadio o di una tifoseria, perché purtroppo non possiamo negare che ci sia stata anche di quello, che ci sia anche di quello. Io sono per il tifo positivo, quello l'ho sempre detto, credo che all'interno di un impianto sportivo, che sia un palazzetto o che sia uno stadio, sia molto bello, sia molto... parte del, diciamo, dello spettacolo, anche lo sfottò, il sostenere la propria squadra, perculare, tra virgolette, i tifosi avversari, ma tutto nell'ambito dell'assoluta legalità. E ripartiamo da qui, sperando che all'interno dell'impianto di Torino ci sia una maggior equità di trattamenti, perché, lo sapete tutti, nel motivo per il quale i gruppi organizzati non hanno più sostenuto la Juventus con i loro cori, con il loro sostegno all'interno dello stadio, è per i divieti posti di esporre bandiere, striscioni, vessilli, tamburi, quando invece dall'altra parte, quindi con una tifoseria che arriva a Torino, è concesso assolutamente di tutto. E questo, obiettivamente, crea una discriminazione, crea una situazione assolutamente iniqua, che giustamente va combattuta, perché la Juve ha diritto di sentirsi a casa, nel proprio stadium, ha diritto di avere il supporto dei propri tifosi. Chiudo con un'ultima considerazione. Vi avevo chiesto, nel contenuto di ieri post partita, se chi era presente allo stadio avesse avvertito questo sostegno, che io vi sto raccontando, questo sostegno. Mi sono state date conferme in tal senso, voglio anche aggiungere che mi è stato confermato che si sono uditi cori pro Massimiliano Allegri. E qui ritorno un passo indietro in quel contenuto che feci con l'amico Guido Dolomei, che ha vissuto la curva e che raccontò, a precisa mia domanda, qual era la posizione della curva nei copri di Massimiliano Allegri, di una curva che era assolutamente, diciamo, in contrapposizione, ad esempio a tanti che seguono questo canale, perché la curva non è contro Massimiliano Allegri e nei cori a sostegno di Max Allegri di ieri c'è la conferma che la curva è unita con l'allenatore della Juventus. Cori per lui, cori per Fagioli, uno di coloro i quali si è esposto verso il tifo e quindi, bene così, avanti tutta, la mia speranza, al di là di come la pensate su Max Allegri, è che questo a cui abbiamo assistito ieri, questo pubblico, possa tornare ancora più forte, ancora più canoro, diciamo così, a sostegno dei bianconeri, perché io sono convinto che alla fine della stagione, a qualche punto, te lo possano regalare. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto, fino alla fine. Forza Juve, ciao!